amici tutto udinese dei fuoricampo buonasera ben ritrovati con questo nuovo video qui la sottoparlato il vostro davide marchiol e con il video di oggi andiamo un pochettino a completare la panoramica sui nuovi acquisti già ufficializzati intendo ovviamente dall'udinese ho analizzato in un video e bosele a manqua e buta come secondo la mia opinione potrebbero andare inserirsi nella rosa di sottil oggi completiamo l'opera parlerò ovviamente per la gran parte dei video di sandy lovric l'acquisto forse principale in questi mesi in casa fiulana e spenderò due parole per axel guessano un giovanissimo che l'udinese ha tesserato nel giorno di apertura del calcio mercato detto che comunque la calcio mercato di l'udinese ci porterà sicuramente altri elementi c'è biol in arrivo dal csk a mosca potrebbe arrivare anche tisserano per completare il reparto difensivo ci sono tutti i gioielli ancora in ballo quindi siamo ancora le prime battute diciamo che con questo video completo tutta quella serie di affari che l'udinese ha chiuso tra fine gennaio magari prelevando un giocatore lasciando l'imprestito altrove da quindi da fine gennaio fino ai primi di luglio quando effettivamente si è aperto il calcio mercato detto questo ovviamente ne avete sempre quello iscrivetevi al canale a voi non costa niente basta veramente è un tap sulla scritta iscriviti e soprattutto potete ripensarci non è per sempre se decidete che dovete ripulire la vostra bacheca di youtube è un attimo anche tornare indietro a voi ripeto non costa nulla non aiuta tantissimo perché per cantirare a campare su youtube bisogna iscriversi ai canali è la legge base della piattaforma rossa se siete già iscritti non dimenticatevi di tappare sul pulsantino col pollicione quindi sul pulsante like anche quello aiuta tantissimo perché permette a un video di gira di più più like e commenti arrivano in poco tempo più il video gira di più perché youtube dice quel video è interessante quindi devo farlo vedere a più persone altrimenti cerca di non farlo vedere agli altri allora detto questo partiamo con due parole giusto su su guessand difensore giovanissimo parliamo di un ragazzo che è attualmente non ha compiuto ancora neanche il diciottesimo anno di età minorenne quindi ha un contratto triennale che è il massimo per un giocatore per un ragazzo non ancora maggiorenne come per pafundi per esempio che ha firmato per tre anni ne parlano benissimo in francia ha già fatto i suoi soliti professionisti con il nancy scuola a strasburgo è già nel giro della nazionale giovanile transalpine quindi attendiamo di vederlo come mi hanno ricordato ovviamente esiste anche la squadra primavera se per lui non sarà un prestito sarà aggregato alla squadra primavera quindi sono due opzioni più probabili poi col tempo magari sottile lo visionerà e col passare dei mesi magari inizierà a portarselo in panchina in prima squadra o inizierà a fargli assaggiare un po anche cosa vuol dire stare nella prima squadra però come a banqua parliamo di un profilo veramente ancora tanto giovane per essere considerato comunque un elemento importante nella rosa poi è chiaro che se è giovane a qualità deve entrare più presto nella prima squadra questo è fuori discussione ma insomma diamogli diamogli tempo per affermarsi loro due inizialmente con tutta probabilità andranno o in prestito o saranno aggregati alla primavera che è tornata in serie a la cosa sicuramente più interessante tra tutti questi dopo quello di oltre a quello di festi e bosele e quello di sandy lo di san san dio senti credo sandy sandy love rich che è arrivato dal dal lugano svincolato parliamo di un giocatore dall'elevato dall'elevato tasso tecnico ne parlano veramente un gran bene sloveno di origini austriache cresciuto nell'ienz tra l'altro squadra località dove rudinese andrà in ritiro per preparare la nuova stagione di serie a cresciuto poi allo sturm grazie passato a lugano dove è iniziato a farsi notare tra nel calcio professionistico tanto che ha già può vantare a 24 anni già 22 presenze tre gol con la nazionale slovena e parliamo di un centrocampista particolarmente duttile tanto che comunque a livello di ruolo può essere posizionato dunque in più reparti partiamo da un presupposto e continuo a credere che l'udinese giocherà anche quest'anno col 352 e le parole di sottili durante la sua presentazione me l'hanno fatto pensare perché comunque durante la durante le domande che gli hanno fatto di nese tv ha parlato di adattarsi alla rosa che si trova di non fossilizzarsi sui schemi su certi schemi mi è sembrato poi magari sarò io che vedo troppo tra le linee abbastanza 1 sì ho sempre usato il 4312 ma se quasi usa il 352 possiamo usare il 352 questo è un po il messaggio che mi è passato a me ascoltando le sue parole poi magari sbaglierò e passeremo veramente al rumbo a centrocampo ma dopo 12 anni ormai io vedo il 352 abbastanza come un dogma quindi capiremo e vedremo nel 352 l'ovric potrebbe ricoprire due ruoli tutti e due molto interessanti perché per la qualità che ha a livello di piede potrebbe per esempio essere sostituto di wallace wallace che qualche vocina già fino aprile mi aveva detto che durante il mercato estivo poteva essere uno degli elementi in partenza e infatti in questa estate si sta c'è un po di chiacchiericcio su squadre che potrebbero prendere wallace un interessamento del napoli che secondo me lascia un po il tempo che trova ma più magari un ritorno in patria ma ad alti livelli tipo un passaggio al flamengo non sono non sono opzioni completamente da scarpare ed è chiaro che con la partenza di wallace l'udinese resterebbe scoperta nel loro di play perché ci sarebbe solo Iaialo un rinnovo tra l'altro diciamo cercato abbastanza da cioffi cioè cioffi che aveva come dire una buona visione per quanto riguarda Iaialo perché Gotti un po l'aveva lasciato in disparte rinnovato anche lui si sta cercando di piazzarlo sul mercato probabilmente con scarse chance di successo quindi resterà come vice regista Lovric potrebbe essere adattato al ruolo di playmaker chiaro che ci vorrà del tempo ma per qualità e per visione del gioco anche da come ne parlano gli esperti del calcio slovene austriaco è un ruolo che può ricoprire chiaro dovrà migliorare col tempo la velocità di lettura del gioco che in serie A sappiamo è più alta rispetto a campionati magari un po di secondo piano come possono essere la bundesliga austriaca o il campionato o il campionato sloveno e svizzero visto che lui giocava a Lugano e questa è una prima opzione quindi un centrocampo a tre con due mezzali importanti e la novità Lovric in cabina di regia un'altra alternativa e quello di si metterebbe nel suo ruolo un po più naturale è quello di farlo giocare sulla tre quarti lo sappiamo Deulofeu può partire c'è una trattativa in fasi molto avanzate con Napoli per quanto il liti marino abbia detto che con Napoli abbiano solo fatto delle chiacchierate in realtà le cose sembrano stare un po diversamente un po come quando disse che la lasagna sarebbe rimasta il giorno dopo fu presentato dal Verona per dire cose mi spiego sono dichiarazioni che fanno parte del gioco quello intendo dire però Deulofeu ancora attualmente è qua e quindi vediamo può anche giocare sulla tre quarti ha le caratteristiche tecniche per farlo ha più i tempi del tre quartista di un Samaric per quanto riguarda l'inserimento si potrebbe anche passare un modulo col doppio tre quartista ma come abbiamo visto con Gotti non è una cosa così semplice da attuare come possiamo pensare perché Gotti quando ha provato ad aumentare i giocatori nel reparto offensivo ha completamente squilibrato la squadra quindi lì bisognerà fare molta attenzione a quello che è poi l'equilibrio dell'undici comunque sì è un acquisto molto interessante perché come ho detto ti apre più soluzioni ti permette di avere un'alternativa in cabina di regia un'alternativa sulla tre quarti dove l'anno scorso era Deulofeu success a giocare se la Pereira in quel ruolo francamente anche basta nel senso che è molto più utile in mediana per come ha giocato quest'anno forse non so magari un calo leggero di intensità dovuto all'età o ormai si è adattato perfettamente al ruolo di mezzala e quindi riesce a dare il suo massimo come mezzala ma da tre quarti sta quest'anno quelle poche volte che è stato usato ha fatto veramente male e con una partita con la Sampdoria dove praticamente non era in campo e quindi detto questo a livello di scelte e di profondità della rosa Udinese ha dato ulteriormente elementi a Sottil ora bisognerà vedere a chi sostituirà i due centrali partiti ovvero Marie e Neuren Perez i nomi di Tisserand e Biol sembrano essere quelli più gettonati e ce dovrebbero essere già eventualmente novità in settimana dopodiché sarà da vedere i tre gioielli Becaud, Eurofeu e Molina cosa faranno in base a loro tre poi si dovrà vedere se intervenire ulteriormente sul mercato o meno detto che il mercato è molto difficile perché come avete visto è stato rinnovato Nestorovski anche perché per arrivare a Copetti sembra molto complicato visto che la richiesta del racing non si smuove dagli 8 milioni di euro di minima infine vi annuncio che domani alle 21.15 su Udinese TV presenteranno la campagna abbonamenti quindi se siete interessati la campagna abbonamenti verrà presentata nella giornata di domani con tariffe, agevolazioni e tempistiche per acquistare il vostro abbonamento non mi resta che ringraziarvi per aver visto il video ricordatevi il like, un saluto, alla prossima ciao